Siamo a Big Blue 2011 con il Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Presidente, una nuova forma di collaborazione tra pubblico e privato, questa nuova Darsena? Sì, soprattutto è la voglia di dare una mano facendo ognuno la propria parte, perché dotare la Fiera di Roma di una Darsena, cioè rafforzare questa possibilità di accedere alla Fiera via fiume e via mare, aumenterà moltissimo la competitività della Fiera di Roma. Big Blue in pochi anni ha conquistato uno spazio straordinario del panorama delle fiere nautiche in Italia, con la Darsena davvero competirà per la leadership di queste fiere. Bene, un'altra cosa molto importante, si parla spesso di Roma come capitale d'Italia, il Lazio come una regione molto importante, la provincia di Roma ha un suo peso fortissimo, ma non soltanto nella nautica. Grazie a questa iniziativa si avvicina ancora di più al mare? Assolutamente sì, o meglio, più che si avvicina renderà utile essere vicino al mare, perché la fiera è vicina all'aeroporto, come quasi nessun'altra fiera in Italia, è vicina a una città meravigliosa come Roma, ma anche vicina al mare e al Tevere, e questa opportunità fino ad ora non era stata fino in fondo sfruttata. E quindi quello della Darsena è un progetto non enorme come quantità e volume economico, verrà realizzato in project financing, ma è straordinario dal punto di vista della forza che può scatenare in termini di rafforzamento e la competitività di questa infrastruttura romana. Questo significa anche, Presidente, andare alla ricerca di partnership private per sviluppare non solo questo progetto, ma immagino che può diventare un volano per altri progetti della provincia di Roma. Questo è un progetto di finanza, quindi sarà finanziato totalmente con investimenti privati che poi avranno a rifarsi sull'utilizzo della Darsena, sia per Big Blue, sia per le attività fierissiche, ma sia anche per attività che durante tutto l'anno, rendendo il fiume più fruibile e confortevole, potranno realizzarsi nella Darsena.